Arriva ai calci di rigore la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia Serie D per la Valdinievole Montecatini che va avanti 5-4 dalla dischetto eliminando il Leggivizzano che vedeva il debutto in panchina del nuovo tecnico Cristian Amoroso al posto dell'esonerato Marmorini. Per due volte il Montecatini è andato in vantaggio ma per due volte si è fatto riprendere. Prima Bartolini alla mezz'ora del primo tempo al quale ha risposto poi per gli ospiti Paccagnini. Questo tutto nel primo tempo. Poi nella ripresa Giordano al 52esimo ha riportato in avanti i termali ancora raggiunti da Abzerak all'89esimo. Adesso la squadra di Simone Venturi tornerà in campo per gli ottavi insieme alle altre due toscane rimaste ancora in corsa Via Reggio e Grosseto. È importante perché dà spazio e minuti nelle gambe a chi gioca meno, quindi dà esperienza e dà allenamento e poi passare il turno è sempre un piacere. Vincere accresce l'autostima, quindi è ben accetta questo passaggio del turno. Abbiamo, nonostante giocassero anche qualche Juniores, il portiere della Juniores, volevamo provare a passare il turno. Ce la siamo riusciti. Ce la siamo un po' complicata però poi siamo riusciti ancora con rigore e bene, è un piacere. Sono stati bravi ragazzi. Non abbiamo obiettivi a lungo termine, quindi affronteremo partita per partita sempre per provare a passare il turno. Chiaramente più andremo avanti più le difficoltà aumenteranno, però non la snobbiamo assolutamente. Allora siamo agli ottavi, quindi il giochino comincia ad essere ancora più bello e proveremo ancora a passare il turno come abbiamo fatto in questi due turni precedenti. Sicuramente la vittoria aiuta, come ho detto prima, l'autostima a lavorare meglio e sicuramente dà una carica in più per ripartire in campionato con l'atteggiamento giusto e dimenticare velocemente la prestazione, come si può dire, molto negativa di domenica con la Fezzanese e affrontare questo impegno col Savona che sarà molto probante, quindi con l'atteggiamento giusto e la determinazione giusta e sicuramente la vittoria di oggi può aiutare.